Proprio piano entriamo e vengonoci! Una sembrina, arriva dappertutto! Un applauso! Ragazzi, scusate, sedete io subito, ma chi senti a stagia soppresa? Cioè, allora, devo dire una cosa, sedete per favore perché due minuti dediciamoli a questa... Lo stendiamo lì per finire le cose perché... Allora, adesso... Bravi! Beh, no, sono... Sì, sono conosciate! Due donne paolose! Due donne paolose! Lucia! Poi... 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 Poi solo... Dire se ho preso il paolo, perché oggi vi ho detto che la scena del film che mi dice non la viene, non la viene, non la viene, non la viene al mare... Poi... Poi... Poi...